buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono maternitiraotto ed oggi siamo nell'episodio da quale dobbiamo appunto fare delle cose con la redstone allora vi preparo benissimo per sclerare incominciamo a creare pistoni appiccicosi oddio mi sono inceppato un attimo nel dire appiccicosi 5 6 aspettate come si craftano i pistoni voto 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 pistoni dove siete no no dove siete no oddio qui mi serve del ferro prendiamo 6 vabbè per ora ne facciamo 4 dai per ora ne facciamo solamente 4 perché proprio perché fa figo ecco ecco perché fa figo allora benissimo qui ci teniamo giusto giusto il coso per facciare la leva e ragazzi immagiamoci nel mondo della redstone il bruttissimo bruttissimo mondo della redstone ok saliamo un po 5 biscottini li mangiamo pure benissimo ok ciao ingresso allora dobbiamo mettere i pistoni qua quando c'è o sotto no cioè creiamo delle feng ecco già già non ci troviamo c'è punto già non ci troviamo salve blade power è benvenuto 66 benvenuto in un video stavo registrando appunto minecraft si allora stavo un attimo riflettendo qui sono cose difficili quindi per favore rimani in silenzio per un po' perché devo riflettere allora dobbiamo mettere i pistoni sotto e se dobbiamo mettere le fence ok bene bene già non ci troviamo con la redstone allora dobbiamo allora leviamo questi 4 allora ragazzi erano 4 i pistoni mettiamo i pistoni appiccicosi così appiccicosi così ecco appiccicosi così allora poi dovremmo creare credo di collegamenti qua sotto però dopo ci pensiamo e ci dobbiamo mettere un altro tipo di fence perché tanto non si può passare in mezzo che tipo di fence mettiamo non lo so credo che dovremmo prendere del legno prendiamo il legno il legno di abete ragazzi perché l'abete è il legno mio preferito allora quindi andiamo a prendere un po' di abete vai che il legno di giungla sinceramente c'è veramente un po' brutto i coglioni cioè si perché c'è sto disboscando una intera giungla ah ragazzi poi scusatemi questa qui non sarà più la gabbia di leonardo da amici perché non rispetto di leonardo da amici però sarà la gabbia la gabbia dei gay punto chi ci entra è gay ok da oggi in poi chi ci entra è gay ok è benissimo andiamo a prendere un bell'alberello ne basta pure uno così eh benissimo ah uh dammi il pezzo di legno ah già me l'ha dato che cazzo e dai però il parkour sulla ps4 non è proprio il mio forte vai benissimo altri due fanno otto nove no si pensavo che erano sei e due otto vabbè sei sette e due fanno nove e ha ragione sempre minecraft perché minecraft è una calcolatrice vivente allora andiamo al castello che tra l'altro tra poco ci faremo pure l'entrata così di figa la figa zio se non fare l'entrata così non c'è nessuno però aspettate ho sbagliato ecco qua abbiamo sbagliato perché abbiamo sbagliato perché dovevano venire qua sotto i pistoloni ah i pistoni scusate i pistoni allora uno due tre e quattro ok posso precazziare la redstone di là eh ok ci precazziamo la crafting table abbiamo due di aria in aria e li piazziamo così un attimo a random anzi no lo facciamo le stronzate e li piazziamo dentro la cesta che teniamo qui oh bene e ok dobbiamo craftare il legno di eh di giungla sa per dire troppo troppo legno di giungla benissimo il legno di abite è uno e due e tre e quattro benissimo per ora è tutto a posto ora invece purtroppo ci dobbiamo buttare sotto in questo inferno e dobbiamo riflettere purtroppo ragazzi purtroppo the life is così the life is così by maternity the life is così ragazzi allora ok stanno lì benissimo guardate qui che ho pagine caso ormai dobbiamo cuocere qualcosa teniamo pure il forno il forno ecco ah c'era del ferro buona portata di mano visto che non c'ho il posto per questa cobblestone la mettiamo dentro la fornace ah pure la sabbia si deve mettere tutti quanti pure le capre nude pure quelle ok il momento della verità dobbiamo sincronizzare quattro pistoni sulla sull'identica frequenza cioè come cazzo si dice sull'identico circuito ecco parliamo in un modo più corretto allora un bel sospiro ora ragazzi vedrete un maternity che non sa fare niente divertiamoci divertitevi perché maternity non sa fare niente allora mettiamo questo bene devono finire pure i blocchi bellissimo ottimo altri due ce ne stanno prendiamo un blocco di sabbia perché non fa mai male benissimo cioè è proprio un pavimento ora dobbiamo mettere un attimo questi tre di redstone così poi così poi così e qui dovremo mettere i ripetitori e i ripetitori si fanno con la pietra che sta sopra un attimo in quella chest lì allora vediamo forse secondo me ecco secondo me ce la facciamo al primo tentativo eh si pure per me allora secondo me ce la facciamo al primo tentativo allora vediamo questi e facciamo craftiamoci i ripetitori due proprio ne servono oddio ragazzi che culo che culo a portarci quelle torce che culo bene benissimo qui faremo un cancelletto metteremo scriveremo donut touch o se no ti muore la famiglia ok no mannaccia non mi dire che devo andare là vicino aspetta si dovrei andare vicino così devo andare da sopra e non fa niente e sciarazzi 90 ok ok ragazzi siamo un altro per qua ora si mamma mia ragazzi siamo c'è punto ce l'abbiamo fatta al primo tentativo c'è capite capite la gioia di maternity in questo momento finalmente so che il cervello ce l'ho meno male ce l'ha il cervello ok ora dobbiamo un attimo però c'è la piccola complicazione dobbiamo collegarlo a qua sopra e sinceramente non so se qua sopra prende c'è la torcia viene la leva ecco mi capito punto se la leva viene attivata da un blocco qua no sono due blocchi di distanza non si può attivare allora come dobbiamo fare non so veramente come fare però ecco ecco vedete è una piccola prova per testare secondo me possiamo fare una cosa realzata e mettiamo la redstone non la no la possiamo mettere vero non la possiamo mettere la però la possiamo mettere ho un'idea anzi un'ideona allora ok qua sono le mura del castello eh ragazzi per dire benissimo qua c'è questo eh che cazzo perché si è chiusa la cosa qua la trapdoor oddio sarebbe un po' un bordello un po' troppo bordello un po' un po' troppo cioè andiamo a vedere se si se funziona no non arriva il circuito là ah 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 e questa non è una buona cosa perché perché scade lì oh mio dio dobbiamo trovare un modo per fare una specie di shortcut allora no così non va dobbiamo trovare un modo raga oppure mettiamo il ripetitore di un altro io direi è l'unica alternativa migliore dove sta facciamoci un altro ripetitore tanto lo teniamo il materiale ah c'è un bel ragnetto ah no 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 ti distruggo la famiglia ok c'è troppo l'occhio di ragno proprio ora ce lo devo adottare ok e quindi ah ecco qua perché non arriva tanta redstone tanta carica la pure benissimo ok il problema è stato risolto eppure con successo allora tentiamo un attimo di andare di qua benissimo abbiamo un attimo tutti questi blocchetti ok ragazzi guardiamoci tutto quello che maternity ha creato un attimo un attimo mangiamo pure ok ragazzi è stato fatto con successo con molto successo allora benissimo ora ragazzi direi che per questo episodio della porta del castello è tutto noi ci rivediamo in un prossimo video un abbraccio maternity di idra 8 al prossimo video che per questo è stato fatto Grazie a tutti.